In tutti gli sport in cui si effettuano spostamenti laterali o cambi di direzione, è importante avere dei buoni livelli di forza dei muscoli adduttori. Il Copenhagen è un esercito che può aiutarci a rinforzare questo distratto muscolare. La posizione di partenza prevede che il piede sia oltre l'altezza delle spalle, da qui si scende lentamente fino a toccar terra e si risale. Ci sono altre modalità per svolgere questo esercizio in maniera un pochino più semplice, ad esempio riducendo l'altezza della gamba che viene appoggiata, oppure possiamo svolgerlo anche sul campo, per esempio con l'aiuto di un compagno che ci sorregge la gamba. È possibile iniziare con 5 ripetizioni per lato fino ad arrivare a 10-15 e tenendo una cadenza bisettimale possiamo vedere i risultati benefici di questo esercizio già dopo 8 settimane circa.